Hai un'autoscuola e noti un calo di clienti dovuto anche all'aumento della concorrenza negli ultimi anni? Cosa stai facendo di concreto per attirare i clienti? La guerra dei prezzi al ribasso è un grosso errore che ti porta a svendere il tuo lavoro. L'unica soluzione è trovare un canale per essere trovato. Uno strumento che garantisca un match tra la tua autoscuola e l'allievo. Come intercettare e riuscire ad avere un match con i ragazzi di oggi, entrando nel loro mondo e parlando la loro lingua. Con l'app Quizzando Patenti Quizzando Patenti è l'unica app gratuita e senza pubblicità che permette all'utente di effettuare test di preparazione all'esame e di poter capire sempre dove ha sbagliato grazie alla connessione con l'autoscuola. L'utilizzo è semplicissimo. Grazie alla geolocalizzazione l'allievo che scarica l'app vede sulla mappa l'autoscuola più vicina che offre questo servizio e la contatta per essere seguito. Da quel momento sarai la sua autoscuola di fiducia. Visualizzare i test è semplicissimo. Basta collegarti al profilo dell'allievo sul nuovo portale Docenti EGAF e vedere lo storico dei suoi quiz. I ragazzi saranno sicuri di capire gli errori e avranno alte probabilità di superare l'esame. E tu comparirai sulla mappa dell'app differenziandoti dalla concorrenza grazie a un servizio unico. Una patente cucita su misura per ognuno dei tuoi allievi come un abito sartoriale. Così tu non dovrai più spendere soldi in pubblicità o sperare solo nel passaparola. Perché sarà l'app a portarti nuovi clienti in continuazione. L'app e il libro sono prodotti da EGAF, editore e leader del settore in Italia. Vuoi saperne di più? Lascia una mail per ricevere ulteriori informazioni. Grazie. Grazie. Grazie.